Simone D'Andrea, direttore generale Dodic. Dopo Frosinone, Roma Sud, Latina, Roma Nord, oggi Napoli. Perché Napoli? Napoli perché sicuramente rappresenta un punto fondamentale all'interno della campagna che è una regione che noi stiamo approcciando. Stiamo approcciando e fa parte di un percorso di crescita della nostra azienda, crescita che appunto prevede quello di portare servizi, di portare il nostro valore aggiunto di distributore sul territorio. Quindi è quello che ci ha permesso in passato di crescere velocemente, quindi con l'apertura delle altre filiali e Napoli rappresenta appunto una tappa fondamentale in questo passaggio. Molti progetti quindi in Dodic. Dopo Napoli che cosa ci possiamo aspettare a breve e medio termine? Sicuramente continuare questo processo di appunto allargare il raggio d'azione, quindi da azienda laziale oggi riteniamo un distributore che opera in tutto il centro Italia. E quindi siamo strutturati per farlo e aumentiamo questa struttura, quindi siamo sempre più vicini e saremo sempre più vicini agli installatori, aumentando i nostri servizi ma aumentando anche il numero di prodotti che andremo ad offrire. Quindi oltre ai prodotti tradizionali che già vendiamo, che già offriamo, avremo e offriremo a breve anche delle soluzioni di smart home automation wireless, semplici, non invasive nelle installazioni, non eccessivamente costose, aperte a un mercato molto ampio, soprattutto nel residenziale. E quindi delle opportunità nuove, importanti, tecnologiche ai nostri clienti. Del resto, oggettivamente parlando, i numeri vostri dimostrano che siete il distributore leader a livello di centro Italia. Assolutamente sì, siamo leader per numeri, per fatturato, per numero di sedi, ancora di più adesso, e per numero di persone sul territorio. Quindi offriamo un servizio che in questo momento non si può permettere nessun'altra azienda.